Pescara letteralmente scatenato nelle ultime ore di calcio mercato, dopo aver definito il prestito di Marco Capuano al Cagliari e l'arrivo del giovane difensore del Fabro. Nella tarda serata di ieri la società Bianca Azzurra ha praticamente quasi concluso due importanti colpi in entrata. Stiamo parlando dell'arrivo di Pogba Senior, fratello dell'attaccante juventino e del bomber, ormai ex Novara, Flavio Lazzari. Pogba, dopo un incontro con i dirigenti adriatici, ha trovato l'accordo che dovrebbe essere ratificato in queste ore. Mattias Pogba, 24 anni, ha giocato nell'ultima stagione nella terza serie inglese con la formazione del crowd Alexandra. Il giocatore, dopo le visite mediche, si metterà a disposizione del tecnico Marco Baroni. Per Flavio Lazzari c'è stata ieri l'accelerata decisiva dopo l'incontro avvenuto negli uffici del presidente Sebastiani con il suo procuratore. L'attaccante arriva in Abruzzo con una gran voglia di far bene. Sansovini ha detto Lazzari, mi ha parlato benissimo di Pescara, sono contento di trasferirmi nella vostra regione. Ma quella di ieri è stata una giornata importante anche per altre trattative. Definita e chiusa quella riguardante Capuano con un amichevole da giocare contro gli isolani del Cagliari il 13 agosto all'Adriatico di Pescara. Frenata invece per il trasferimento di Ferdinando Sforzini alla Salernitana. L'esperto attaccante non ha infatti ancora trovato l'accordo con il Pescara per la famosa buon'uscita. Intanto sempre sul fronte cessioni si lavora per trovare una sistemazione a Biarnason e Vukusic. Per gli altri arrivi i nomi sono quelli di Zampano, del Verona per il ruolo di Terzino e di Fornasier per coprire il buco lasciato dalla partenza di Capuano. Per il centrocampo si segue sempre Marcel Buchel. Il 1 agosto intanto la squadra si ritroverà ad Atri per iniziare l'ultima parte di preparazione che condurrà ai primi impegni ufficiali con la gara di Coppa Italia in programma il 17 agosto all'Adriatico con la vincente della sfida Albino Leff Renate. Domani sera poi alle 21 presso il Centro Ledune saranno presentate le nuove maglie da gioco nell'ambito di una iniziativa organizzata in collaborazione con le donne biancazzurre. Ma prima alle 18.45 all'Hotel Dragonara ci sarà l'attesa conferenza stampa di Mr. Baroni. Siamo un bel pezzo avanti, penso che nella giornata di oggi o al massimo domani si chiuderà anche questa situazione del passaggio di Marco al Cagliari. E' un passaggio che onestamente andava fatto anche per la crescita del ragazzo perché comunque è un giocatore che con noi ha sempre fatto molto bene, si è comportato benissimo, un ragazzo esemplare ed è un giusto premio anche per lui. Pescara sicuramente dovrà prendere un laterale sinistro e basso e poi lavorare sul centro campo, questi sono i nomi più caldi però vedremo nei prossimi giorni cosa si potrà fare, sicuramente siamo sul pezzo tutti quanti.